Salve a tutti, in questo video vediamo come salvare una copia di backup dei nostri dati su Facebook. Andiamo sul nostro account sul browser, clicchiamo sulla freccetta e poi su impostazioni. Entreremo in questa schermata e poi clicchiamo su scarica le tue informazioni, visualizza. Ci arriverà questa schermata, dobbiamo cliccare su crea il file e ci metterà un po', anche parecchie ore. Non importa essere connessi, ma quando avrà finito ci darà una notifica sia qua nella campanella sia via email. E qua su copie disponibili possiamo cliccare e vedere che possiamo scaricare il file. Nel mio caso è 1,78 giga, dipende da quante cose avete condiviso. Una volta scaricato il file si presenta in questo modo. Eccolo qua, ci sono tutte le cose che abbiamo fatto, i file HTML, qua in photos and videos ci sono tutte le foto e i video. Ad esempio, nel mio caso sono 830 megabyte. Quindi semplicemente così possiamo effettuare un backup del nostro account Facebook. Un saluto a tutti.